Il Comune di Castellabate ha sottoscritto una convenzione con l'Associazione Sportiva della Sezione del Trio Assegno Nazionale di Castellabate per intraprendere azioni congiunte per la progettazione ai fini della ricostruzione del poligono a fuoco nella località Spia Friddo. L'amministrazione comunale, allo scopo di salvaguardare una realtà sportiva locale con 120 anni di attività, intende attivarsi per il reperimento di finanziamenti pubblici per la rinascita di questa importante realtà sportiva. Inoltre, il Corpo della Polizia Municipale potrà tenere l'idoneità al maneggio delle armi esercitandosi al tiro a segno, sezione di Castellabate. Il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, ha dichiarato in merito alla convenzione. Questo è il primo passo di un impegnativo percorso sinergico per la valorizzazione di una realtà sportiva utilissima e che è parte integrante della nostra storia locale.